Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale Io sono Veronica, molto molto piacere Ci conosciamo, se non ci conosciamo, con un haul per la casa E anche un po' di spesa fatta Ho messo tutto in questa borsa qui, della coppia Quella con la caffettiera, ovviamente E uno dei primi acquisti è stato un plaid, quello stile agnelloso Vi metterò una clip perché è già sul mio letto L'ho pagato intorno ai 15 euro, 14 euro Lo volevo, finalmente l'ho preso 14,99 il plaid Sono sicuri Poi, dal Penny C'era un'offerta, che mi sono ottenuta anche l'offerta C'era cuscino sagomato 5,99 Completo letto singolo 13,99 Non ho trovato il completo con l'unicorno Il penicottero E quello con il penicottero e quello con il pinguino E ho preso anche i cuscini abbinati ovviamente Quindi, 13,99 il completo letto Questo con il penicottero e questo con il penicottero E' troppo bellissimo 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 a posto è d'accordo anche il mio cane tutti d'accordo prima poi questi non mi ricordo c'è scritto qua per caso non mi ricordo questi qui mi sembra sui 5-6 euro non sono sicura tre paia di calzini per caso perché non ne ho presi già da te no 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 e questo è fantasy qui bianchi neri grigli sono morbidissimi e caldissimi poi ho preso il chietetik questo dolcificante qui pagato 2,49 euro meno di 3 euro sicuro questo dolcificante che uso senza conservanti senza spartame senza guti me l'avevano consigliato su un canale una tipa che si intende di panestra fitness l'ho ripreso finalmente e ho visto che alla d'oro cosa non mi pare molto molto prestato poi 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 ho preso la carta veramente igienica questa qui molto molto conveniente a 2 euro e 69 poi ho preso mia mamma mi ha preso questo dolore relax fasce riscaldanti per i dolori allevano dolore tensioni muscolari di collo spalle e polsi questi qui presi all'ipercop non costano neanche tanto sono due fasce riscaldanti all'interno poi ho preso sempre a l'ipercop questo kit The True Beginner's Kit New della Kiss per mettere le ciglia finte l'aveva anche consigliato Vittoria Sair vedete questo costava intorno ai 10 euro però non vi so dire il prezzo perché non ho lo scontrino poi mi ha preso questo pennello viso per terra e ciprie la vedo dura è solo stile di cui è già riallternissimo è tutto puffoso per terra e ciprie ma anche per i fondutini ideale per applicare fondutinta in polvere ciprie e terre è sulla scia di la Real Techniques pagato mi sembra sui 5-6 euro la marca è l'alison body care che è tutta una hanno tutti una linea di tutti tutta la cosmetica accessori per la cosmetica sono targati alison molto morbido sto pendendo di un'altra cosa di un'altra cosa infatti si chiama powder brush sembra quello della Real Techniques vedremo vedremo poi mi ha preso bio e vegan sono relax passiflora e melissa per il tono dell'umore e per il relax durante il sonno l'indicatore alimentare va a risultato di passiflora e melissa favorisce il rilassamento del sonno in caso di stress poi risulta non vale d'aiuto per trovare il benessere mentale contribuisce al rilassamento benessere mentale mantenimento di normale tono dell'umore ne devono essere più le due al giorno però ci sto trovando benissimo poi ultimo acquisto alle profumerie baci che sono all'interno di Ipersoft questo è qui era in offerta il profumo Calvin Klein quello One quello da 100 ml invece che 50 euro 29,90 l'ho preso per regalarlo al finanziato per San Valentino era una super offerta e l'ho voluto prendere visto che costicchia perché 50 euro non sono pochi neanche 30 però meglio 30 che 50 così almeno poi l'ho impacchietto e c'è già il regalo di San Valentino gli aveva regalato una tale mia mamma gli era piaciuto molto e l'ho ricomprato mi piaceva un sacco abbiamo cercato Invictus in offerta ma non c'è stato verso non c'è proprio offerte su Invictus costa un sacco per ultimo in offerta 2,95 costa quasi 6 euro il Vanish Oxi Action quello in gel da un litro questo lo mettono sempre quasi a 6 euro l'ho trovato in offerta 2,95 l'ho preso subito proveremo a smacchiare tutti i vestiti questo era LOL con varie offerte per per casa per la casa per la stanza simile a una svuota la spesa ma non lo chiamano svuota la spesa non mi sembra il caso spero che il video vi sia piaciuto è stato utile in qualche modo lasciate un like e un commentino qui sotto su cosa avete trovato nei negozi di casalinghi nei supermercati qualche offerta interessante iscrivetevi al canale che mi fa un sacco piacere io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao